Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo campione di Minecraft La volta scorsa siamo stati uccisi 57 volte dal drago Ho giocato un po' per fatti miei, mi sono ricraftato un po' le armi L'esperienza, ma sto a morte Però mi avete scritto un sacco di commenti su come uccidere il drago Quindi adesso ci proveremo, ma non ne sono sicuro Io ci provo, se ce la facciamo siamo dei grandissimi Iniziamo! Allora, bentornati nella mia nuova casa Come potete vedere mi sono craftato un bel po' di armi Tre spade, tre archi e stop, o nient'altro Un'armatura e basta perché poi non ce la facevo più nel mondo E ho piazzato anche qui un'incudina perché mi era più comodo Potessi che andare e tornare sempre dalla base di Yu-Gi-Oh Anche perché dovrei ritornare perché non mi sono portato a presso i diamanti L'ultima volta che sono andato Quindi ho di dire che come prima cosa per oggi dovremmo Un creeper muori, non esploderemo Mi ha distrutto tutto, mannaggia Mi ha distrutto tutto Ma vabbè, qua è più bello però Parano È un altro! Dove vengono? Il mondo ha distrutto Ripiazziamo le scale Eh, che però adesso non bastano Beh, qua ci servirà un altro sacco di terra Perché non riusciremo assolutamente mai a chiudere Tutto questo casino che ha fatto il creeper Con un po' di terra così random Ce n'è un altro ancora! Oh, vattene mai! Eh, vattene! Sta per il raduno Ma qua il raduno dei mostri stanno sempre Qua c'è uno scheletro Vediamo se c'è un po' di terra o un po' di pietra Per sistemare un po' La zona lì 64 stack di terra Cerchiamo di usare questi Che paranoia! Vabbè, non lo riempiamo tutto Facciamo solo l'illusione che è chiuso Che mettiamo giusto così qua Per qua adesso come esco Mi servono le scale a pioli Andiamoci a craftare le altre scale a pioli Ma quanto fastidio che danno quei creeper Madonna Legno io non ne ho neanche nel mondo e nella vita Quindi andiamo ad abbattere subito un albero Tu devi morire Prima che che vieni a scottere anche tu Vattene! Oh, muo Sono distrutta tutta l'isoletta Era così bella Voglio, mo me la devo aggiustare tutta di nuovo Vabbè, però non lo facciamo ora Poi me la aggiusto io Rifacciamoci le scale a pioli Eccole qua E già che ci siamo Lasciamo tutto ciò che non ci serve Le scale... Ah, dovevo mettere la terra qua Vabbè, da non fa niente Poi la mettiamo Ok, le scale ci sono Perfetto Abbiamo risistemato un po' la zona Adesso, come diciamo una volta Nella scorsa puntata Innanzitutto allora Dobbiamo trovare degli enderman Per uccidere e trovare altre due perle Ci servono Per fare i bau Poi... Poi che cosa? Non mi ricordo più Dobbiamo fare... Ah, costruirci il golem di ferro Che per fare il golem di ferro Ci servono appunto i blocchi di ferro Se non sbaglio E la zucca Ok, quindi Qui ferro non ne abbiamo Dobbiamo per forza tornare a casa nostra Che se non sbaglio Lì ce n'è un bel po' di ferro E costruirci il golem Cioè, lo costruiamo direttamente nell'end ovviamente Già che andiamo di là Cerchiamo di trovare anche Qualche enderman In modo tale che ci droppi Qualche perle Magari a Cristo C'è ancora il nostro pollo Che non è morto ancora Ciao Mi avete detto che l'uovo bisogna lanciarlo Che me l'avete detto un sacco di volte Però non l'ho mai fatto Quindi proviamo Puff Non è successo niente Vabbè Ti ho ucciso No, dove va? Ah, no, sei qua Bravo Ma perché sei venuto qua? Cioè, dimmi perché? Stavi tanto bene là? Bah Vabbè Andiamocene Sperando che non si sia allagato Di lava Qua tutto No, ok Speriamo di riuscire ad uccidere il drago Boh Che poi se non sbaglio Dopo che uccide il drago Tipo Deve andare in un altro mondo Per prendere le ali E poi boh Finito Minecraft La prima volta nella mia vita Che gioco a Minecraft E che lo finisco soprattutto Ok, torniamo alla nostra casetta Ma dobbiamo anche continuare La ferrovia che ci porta Dove troviamo Dove abbiamo trovato I tre villaggi E tre cose Eccetera 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 Quanto tempo non venivamo qua Dopo andiamo a soltare anche Larry Allora vediamo Qui c'è la porta aperta Come sempre Vediamo se troviamo del ferro Ho già due blocchi di ferro Prendiamo anche le palle di neve 18 testi di zucca Non ne faremo mai 18 di Ho soltanto 23 blocchetti Diciamo che siamo un po' Che cos'è? Potola di ferro Diciamo che siamo un po' a corto di ferro Vediamo quanti ne riusciamo a fare Vabbè che ne servono soltanto 4 Per fare un golem Quindi vediamo Con 4 ne facciamo Uno esattamente Quindi dobbiamo prendere Un altro bel po' di ferro Magari possiamo scendere in miniera Velocemente E andare a trovare il ferro A che punto è il sole qui? Tra un po' il sole tramonta Quindi direi di non andare adesso in miniera Ma andare alla ricerca delle perle Del land Per fare le chest Che tra l'altro Stavo pensando Dato che ci spacca tutto il dragon Ogni volta che passa Perché tipo Cioè riesce a spaccare le cose Anche attraverso l'ossidiana Se tipo mettiamo Un muro di contenimento Per le casse Per le chest L'ossidiana Ce lo spacca lo stesso O no? Non ho idea Dobbiamo provare Beh qua la farma è inutile anche andare Perché ormai Mi servite solo per livellare La volta so Guardate qua dietro il santuario Con l'ascia enorme Che emana Bellissimo Qui è tutto distrutto Forse da qua passate il wither Boh non mi ricordo Se facessimo una cosa tipo invece Che nel portale del land Criamo un wither Sarebbe il caso Cioè vabbè Per noi sarebbe la fine Perché oltre il dragon Avremmo anche il wither Però potrebbe essere tipo Che attacca anche gli slender Il dragon stesso Magari lo uccide lui Bisognerebbe forse provare Però Cioè poi va al nostro discapito Che dobbiamo uccidere Il wither pure Però là potrebbe cadere E precipitare nel mondo Potrebbe essere Ma dovete dire qua Che casino è successo Questo è il muro Che doveva contenere il wither Che poi non è servito Assolutamente a niente Perché l'ha distrutto Dopo un secondo Il sole sta calando Quindi il sole sta tramontando Quindi adesso Forse iniziano a spuntare I primi mob Quindi armiamoci di spada Anzi più di spada di arco La cosa brutta È che qui nel deserto Non c'è No 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 La carne è appresso Nooo Vabbè stavo dicendo Che la cosa brutta Qui nel deserto È che non c'è acqua Magari Ah ok vabbè Però ah ok Il me è quando ne sta qua Andiamo in questa direzione Magari troviamo anche qualche polo Da uccidere Ah no qui ci sono le mucche Ok uccidiamo queste mucche allora C'è anche i cavalli No però i cavalli Voglio lasciarli stare Però uccidiamo solo le mucche Soprattutto adesso Facciamo massima attenzione A ciò che spawna vicino a noi Che qui ci sono i cavalli E tranquillo Cavalli 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 Sono i cavalli C'è niente nessuno Ah un ragno Io li odio i ragni Guarda qua Mangiamo un pezzetto di gara Mangiamo il cuoio Mangiamo un pezzetto di manzo crudo Anche se non ci dà niente Dovremmo cuocerlo Però a noi non interessano gli Shrek Ci servono gli Slender Dove troviamo i villaggi e le piramidi Ce ne erano un sacco Cioè dovremmo tornare lì allora Per ritrovarli in abbondanza Gli Slender Qui ci sono soltanto gli Shrek E basta Qui c'è uno scheletro Che lasciamo in pace Così non ci attacca Qui ci sono i creeper Che io odio nel mondo Ci sono soltanto i porci Che stanno facendo i porci come di loro E questo lo uccidiamo Così ci dà un po' di carne C'è un altro porco Che uccidiamo Per prenderci la carne No niente Di Enderman neanche l'ombra Cioè non ce ne sono proprio Non so minimamente dove potremmo andare a trovare Dato che qui non c'è una mazza niente Direi di tornare a casa Ma quanti alberi Di tornare a casa e cucinarci Il nostro bel risotto Cioè la carne Questa lo uccidiamo da qua Prima che ci inizia a lanciare le frecce A morte Ok muori C'è anche un creeper Che dobbiamo eliminare il prima possibile Da qua magari No non è morta C'è un altro anche di creeper Eliminiamo anche lui Ciao creeper Ciao Ok ciao Cioè c'è che zone Eh sì Avete capito gli scheletro Quindi qua Qui c'è il mob nuovo No Su una ombra di Enderman Proprio niente 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 Un villastrego Uno stregallero Attaccata qua tra l'altro Enderman non se ne trovano nella vita Vabbè vorrà dire che andremo a recuperare un po' di ferro E ci E torneremo sull'isolotto magico nostro Qui ci sono un sacco di scheletri Me ne devo Ma do pure i creeper No allontaniamoci il prima possibile Da questa non me la fine Prendiamo l'arco Cerchiamo di uccidere nei quanti più possibile E poi ciao Ok li raggiriamo tutti così E ci andiamo sopra Ma quanti ne stanno Ho detto fanno il raduno sotto a casa mia Boh Mi avete spinto in casa Statevi fuori Ciao Ma prendiamo un po' di carbone E cuociamoci la carne innanzitutto Ho slanciato una freccia per sbaglio Voglio farmene almeno due o tre di Di golem Quindi vorrei trovare almeno altri Boh Tanti lingotti di ferro Ci sono mostri nelle vicinanze Non posso riposare No Da cucinare Qui abbiamo altre palle di neve Vediamo che tutta la carne sia pronta Così ce la portiamo tutta E ciao mondo Magari qua dividiamo Così facciamo prima Ok Vediamo se il mostro si è allontanato Ok si si è allontanato Buongiorno Allora recuperiamo qua queste cose Adesso dobbiamo andare alla ricerca Di un po' di ferro Per poi riuscire a costruire il golem Nel land E soprattutto Ci servono i cosi del land Mannage Perché non li troviamo Prendiamo tutti i pollamenti qua Aspettiamo l'ultimo Scendiamo in miniera Da secoli che non scendavamo in miniera Da un sacco di tempo Da quanti si sente già laia Di chiuso Di fresco Che c'è qua sotto Cos'è carbone No a me serve il ferro Eccolo Oh beh Subito subito abbiamo fatto Stava qua Tutto il ferro che riusciamo a prendere Vediamo se ne riusciamo a trovare Un altro po' di ferro Di qui sicuramente ce n'è Perché io andavo alla ricerca dei diamanti Vedi infatti come Ho lasciato il carbone Sicuramente avrò lasciato anche il ferro Da qualche parte Facciamoci un giretto Vediamo magari lo troviamo Invece mai nella vita c'è il ferro Redstone ovunque Ma ferro o niente Torniamo indietro Cerchiamo da un'altra parte Dobbiamo riuscire a craftare Per forza le ceste dell'end Altrimenti col piffero Che ce la fa Vabbè che poi se c'è le robe lo stesso È inutile Cioè voglio dire Infatti anche questo è vero Quindi forse sarebbero anche inutili Le ceste dell'end Però il ferro lo voglio per forza Quindi andiamo alla ricerca del ferro Ma tu Che spavento Muori No muori Sì è morto Che culo Maddonna me lo sono trovato a fianco Un colpo ho preso Ho ragazzi per prendere la spada Perché come è giusto il creeper Prima davanti potrebbe uscirci Qualsiasi altra cosa Se non di nuovo un creeper Sono arrivato in un dungeon Eh sì era collegato Infatti ho messo anche una torcia Mi serve del ferro Altrimenti non posso fare niente Serve del ferro Se ne trova sempre a quantità industriali di ferro Oggi non ce n'è Vediamo qua in questo dungeon forse Maddonna che casino Mi sto perdendo credo Vabbè io scopo a caso da qua Vediamo se troviamo qualcosa Siamo in un dungeon amici Ferro di qui non c'è niente Maddonna vi ricordate La prima volta che siamo scesi in un dungeon Cioè che io trovi questa caverna enorme Con i mostri E avevo paura Maddonna invece Ma così tranquilla Andiamo spacchiamo tutto Ah poco ferro però Vediamo già che siamo Se ne troviamo un altro Eh un mob Eh qui c'è anche la lava però Che abbiamo recuperato Però dobbiamo tornare immediatamente da qua Perché non so Poi da dove Oh altro ferro qua sopra Devo seguire la strada che ho fatto Per venire e per tornare Quindi seguiamo le torce E vediamo un po' O se era proprio questa la caverna iniziale No non era questo il dungeon Il primo dungeon nel quale sono sceso Andiamo di qua allora E adesso cerchiamo di tornare a casa magari Se riusciamo a trovare la strada di nuovo Ma non ce la lava qua Sotto io stavo scavando per prendere ferro E invece ce la lava E io ti do un pugno Se ti lavi di nuovo Non ti devi lavare Rimani sporco Comunque la strada non era questa Cerchiamo un'altra Questa non è perché è chiusa Mi sono perso Penso proprio di sì Di chi è chiuso? Di qui non c'entra niente Proviamo a seguire questo tunnel Si intravedo le schede Ok sì questo è il corridoio giusto Quindi abbiamo fatto tutto un giro intorno Per poi non concludere niente Abbiamo 32 blocchetti di ferro Che andremo a cucinare adesso immediatamente In un po' di fede lingotti di ferro Quindi dovrebbero essere 32 anche lingotti di ferro 32 lingotti di ferro Ne servono tipo 9 Per fare un blocco Ne servono 9 Possiamo fare tipo 3 9 Non so quanti blocchi possiamo fare Vabbè ma vediamo Oh luce e giorno anche Perfetto Andiamo Io che volevo fare l'attico qua sopra O la verandina Non ho più fatto niente Allora mettiamo a cuocere il ferro Nel frattempo andiamo a salutare Larry Che è da tanto tempo che non lo vediamo Ma ciao Larry secondo Fatti cavalcare un po' Ui 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 Ecco mi sono fatto danno però Ciao Larry ci vediamo presto Ciao Però mi manca il Larry originale Andiamo qua sotto Vediamo se sta qualcosa che ci potrebbe servire No niente andiamo Ok rientriamo nel nether Dobbiamo per forza E dico per forza Uccidere Non nel nether Nel nether Uccidere il dragon Ma doi qua le mucche da quanti secoli Non vengo a dare da mangere C'è mucche Mucche alla riscossa Poi pecora alla riscossa E maiale alla riscossa Possiamo fare Quali canne da zucchero crescono Ci sono accresciute abbondantemente Ok ci siamo crashati Gli altri blocchi di ferro Ne abbiamo otto in totale Direi che adesso Ah è giunta l'hunter Quindi possiamo anche approfittarne Per andare alla ricerca Magari di un po' di slender Ehm Sì già che ci siamo Direi di andare alla ricerca Di un po' di slender Poi torniamo sull'isoletta del nether Vediamo se ne riusciamo a trovare qualcuno Va beh che andando nel nether E uccidendo gli slender Mi droppano le perle Però ovviamente Poi non è che me le posso portare qua Giustamente A meno che non creiamo un altro portale Ma come si fa a creare il portale Delle Cioè un altro portale del nether Per creare quei tipo I mattoni del nether No i mattoni del nether Quelli che stanno intorno Sui quali si mettono gli occhi Come si fa? Boh Cioè se lo volessi fare Per creare un collegamento Tra l'end e questo mondo Boh Non ho idea Comunque sì vabbè Lasciamo perdere Torniamo all'isola del nether Magari passando proprio dal tetto della fattoria Così abbiamo una panoramica Delle mucche dei maiali Di qua Ma da quanti maiali? Ti vusse il faremo Mangiamo un po' Prima di truffarci nel nether Che ci siamo Prendiamo il nostro carrellino E partiamo alla scoperta del mondo Che scoperta del mondo Dobbiamo andare ad uccidere il drago Dobbiamo andare Se mi arruolo tipo un esercito di pigmen zombie Così me li porto No vabbè Non credo che si possa fare Ok ci siamo Siamo arrivati Attraversiamo il portale E usciamo sull'isola Che ci interessa Eccoci qua Siamo arrivati Magari c'è proprio qualche slender Qua sopra adesso Torniamo nella nostra casetta Un attimo Che dormiamo così Andiamo tutto via il mondo E le bruttità della vita Ora non puoi riposare Ci sono mostri delle vicinanze Oh buondi Allora lasciamo tutte le cose Che non ci servono Allora Redstone Carbone Portiamoci solo quelle 4 L'ingotto di ferro Le zucche Boh non so quante ne servono Portiamoci un Boh 6 Non so se ne mettono 3 o 2 Dopo vediamo Lasciamo la scalappioli Ci portiamo queste Ok non si può Le torce non ci servono Nel nether La pietra potrebbe servirci Ce la portiamo Polvere da sparo Non ce ne facciamo niente Piccone Ci serve Ok direi che siamo pronti Per andare nel nether Una cesta Io vorrei provare Anche a farmela Però so già Che non riuscirei Quindi lasciamo stare Proviamo a farcela Una cesta E a portarcela Vediamo se ce la facciamo Troviamo E riusciamo a trovare un punto Dove non arriva il drago Quel fatto è che il drago arriva da tutte le parti Cioè non c'è un punto in cui non arrivi Boh Andiamoci a fare la cesta E poi ce ne torniamo subito subito Dritti dritti nel land Ole No ho sbagliato Ole Paf Ciao Assi di quercia Li lasciamo Andiamo Ho chiuso la porta all'altra casa Che l'ho lasciata sempre aperta Non mi ricordo Boh vabbè Qua l'ho chiusa Allora scendiamo E andiamo nel land Di qui scendiamo Con un salto Ci spacchiamo le ossa Ci buttiamo giù d'acqua Così arriviamo prima Il portale della è nella nostra sinistra Dovrebbe essere vero Ciao Moriamo anche questa volta Passi tanto Eccoci allora Madden lander drago Sta già qua Che paranoia Allora da qua è da dove si usciva È vero Sì Ok Allora Cerchiamo di trovare un punto In cui non arrivi il drago Ma qui avevo già scavato il mega corridoio Proviamo a mettere la buttata Qua giù la chest Magari qua funziona Lasciamo Che ne so Proviamo a lasciare Un po' di palle di neve Lasciamo tre bistecche E E basta Sì dai Proviamo così Vediamo che cosa succede Se vive Cioè se campa qua la chest Magari il drago non arriva E proviamo ad uscire allora Oh attenzione Ci sono un sacco di nostri amici Che stavamo cercando Da un sacco di tempo Che purtroppo Non siamo riusciti a trovare Guarda quanti Eccolo il drago Sta passando Mi ha distrutto tutto sicuro Ma se non lo fa tipo apposta Passare da qua Boh Mi si sta impicciando No non è con me Che su cosa succede Sa questo Boh Devo dire di creare subito Ma da quanti ne stanno Di creare subito il golem Così mi aiuta in caso Di necessità Dovrebbe essere come il wither Proviamo a farlo Dovrebbe essere uno E poi al centro la testa Giusto o no Sì Si è bellissimo Sei bellissimo Non l'avevo mai fatto Prima d'ora Con un altro No il drago No Mi ha distrutto il mondo Mi ha distrutto il mondo Il drago E ho perso anche il ferro Che po' E ho perso anche il golem No il golem sta là No allora È la fine per te adesso drago Andiamo immediatamente a distruggere Eccolo che arriva No non sta arrivando Si sta rifucilando Da questa gabbia Che sta qua sopra Ok Dovrei riuscire a rompere La gabbia Dobbiamo fare una specie di sentiero Che ci conduca sopra Ci faccia salire Eccolo eccolo Cerchiamo di colpire il drago No ecco Mi ha fatto anche cadere Il cretino Ma ti stai un po' Allora Distruggiamo tutto ciò Che possiamo distruggere Allora Magari riusciamo anche A colpire il drago Proviamoci Allora Distruggiamo questo qua Da dove si sta ricaricando adesso Ok distrutto Distruggiamo questo qua Oh che cos'è Ah è l'attacco del drago No L'ho guardato in faccia No Non l'ho guardato in faccia Qui sopra Non so se sono riuscito A distruggerlo Sì credo di sì Allora distruggiamo Questo che sta qua sopra Ora Vai Prendilo No Troppo basso Vai Mannaggia Ma che cos'è Questa polvere viola Che mi lancia Appresso Ma raga Devo riuscire a salire Qua sopra Per forza Devo Devo accocchiare Un altro po' di Di pietra dell'end Prima Il golem Non so che fine abbia fatto Brutto rumore Si sente E che se Se ci uccide Dobbiamo provare A fare almeno Un po' a salire Qua sopra Mi ha scaraventato Giù di nuovo Mannaggia Devo mangiare assolutamente Sennò questo mi uccide L'anima mi uccide Era questo qui Dai Dai Siamo quasi arrivati sopra Cerchiamo di attaccarlo Sto cretino E scemo Ma vai a morire Ma vai a morire Cerchiamo di salire Velocissimamente Dovremmo fare Tipo un ascensore Al massimo dovremmo Tipo lanciare le perle Eh lanciare le perle Per teletrasportarci Qua sopra Però poi se non andiamo Se non va a buon fine il lancio Ci sfracelliamo la faccia Il mondo Oh si siamo arrivati Allora rompiamo immediatamente Ok è morto E da qui possiamo avere Una panoramica più grande Di tutte le basi Diciamo che ci mancano Muori Possiamo anche colpirlo meglio Forse Ci ha potuto cadere Si Ma sto scemo Allora qui ne ho visto uno Ne ho visto uno Che dobbiamo eliminare Si sta ricaricando Da quello là sopra Quindi anche lì sopra Ce n'è un altro E dobbiamo eliminarlo Dai che mi chiamavano Robin Hood Esplodi Non posso neanche rimanere fermo Perché se no Mi attacca il drago Allora dobbiamo vedere Da dove si ricarica Oh tra l'altro Ho fatto l'altro E più basso Allora da qui sopra Si sta ricaricando Quindi qui sopra Ce n'è una Mi ha ucciso Un po' più alto Dai Mi serve un altro po' di roccia Ho in mente una cosa da fare Perché è l'unica cosa Che credo che possa fare io In casi come è questo Allora adesso moriamo sicuro Perché non ho più niente da mangiare Quindi non devo perdermi d'animo E devo fare questo Allora Sono 24 Non credo che ce la faremo Però proviamoci almeno Dai dai Fammi arrivare in cima No No Che culo Non sono morto Stavo praticamente a metà strada Me ne serve un sacco Me ne serve Allora faccio Allora io provo ad allontanarmi Dal punto centrale In cui il drago Si muove Diciamo Devo farmi una scorpacciata Di pietre del land Le mie frecce sono arrivate Fino qua addirittura No Ok si sono morto ufficialmente Soprattutto la cosa più brutta È che ho perso tutto È bellissimo Bellissimo Complimenti Benissimo Benissimo Siamo morti Raga Non lo so Direi che per questa puntata Possiamo concludere qua Per ragazzi Questa puntata di Minecraft Ti vi dice qua Che se avete like Se avete un video di Facebook Cliccate l'acca Se avete un video di non vi piaciuto Nella prossima puntata Ho intenzione di fare diverse cose Magari riusciamo ad ucciderlo Proprio nella prossima puntata Si spera Al massimo ci avviciniamo Facciamo soltanto un passo in più Verso l'uccisione del drago Magari Continuate a lasciarci i commenti Scrivendo come posso continuare Perché diciamo Ricordi Non lo so Ci vediamo nel prossimo episodio Di Minecraft Come sempre Con un abbraccio Un saluto Ciao scimette Ciao 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 Ciao